Seril, tantissima voglia di rientrare, hai approfittato anche della sosta. Come stai? Sei pronto già per il Genoa? Sì, sì, sto bene. Grazie ai fisioterapisti abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento perché abbiamo anticipato un po' i tempi, quindi sono contento. L'obiettivo era di rientrare per il Genoa, per adesso l'abbiamo fatto. Sono contento che tutta la settimana ho potuto lavorare con la squadra, quindi adesso aspetto solo la partita di domenica. La partita di domenica per segnare ovviamente un altro gol, come hai fatto all'andata e come hai fatto nell'ultima partita in casa contro il Palermo, pronto a superare questa famosa quota 11. Sì, sì, penso che è il momento perché quest'anno veramente mi sento bene, ho avuto un po' di problemi che mi hanno rallentato un po', però veramente mi sento bene con il mio corpo fisicamente, con la squadra e quindi sì, c'è tutto per fare un buon campionato, per finire bene, che mancano ancora otto partite e sì, tutto quello che abbiamo fatto fino adesso sarebbe buttarlo, quindi anche io, quindi abbiamo tutti voglia di fare un fine di campionato bello. Anche perché vincendo si supererebbero i punti fatti l'anno scorso, ma che insidia nasconde il Genoa? Una squadra che è un momento difficilissimo, però bisogna stare attenti. Sì, sempre giochiamo in Serie A e noi dobbiamo sfruttare il fatto che a casa ultimamente riusciamo a fare dei risultati e in generale le squadre che sono alla nostra portata riusciamo a prendere i punti, quindi questo è importante, la società ci hanno dato obiettivi di finire al decimo posto e questa è la partita chiave per arrivarci. Sì, ma si è visto, perché per esempio a Torino mancava io, mancava Felipe, mancava Carnesis, quindi questo è il momento dove si capisce che la squadra è cresciuta, che la squadra adesso sta bene, può togliere chiunque giocatore e la squadra continui a rendere e a loro arriverà sicuramente il momento perché stanno bene, l'Evangelista ha avuto un po' di problemi fisici poco tempo fa, quindi era veramente vicino a giocare con la squadra e poi speriamo adesso che tocca a loro di avere dei minutaggi perché lo meritano. No, io l'avrei lasciato entrare, ti dico verità, però alla fine nessuno mi può credere su parole perché non mi è mai successo, è un'occasione del genere che la parra entrava, però alla fine va veloce il calcio e quindi sul momento, no, anche Stipe ha tanto tempo che non segnava gol e l'unica cosa che ha tolto un po' come dire la straccia tanto positiva di Duvan che faceva gol ogni partita, però si recupera domenica e non ci sarà Stipe magari per rubare il gol che meritava. Sì, no, è chiaro, ma è quello che ho detto un po' prima, è sul fatto che ha creato un po' io da quando sono arrivato era sempre un po' le stesse discorse che le allenatori hanno dopo due o tre partite un po' così così, era sempre il fatto di creare squadra, di creare gruppo, tutte queste cose che qua mancavano da un po' di tempo e come ho detto prima, il fatto che può togliere chiunque giocatore della squadra e la squadra continua a rendere e questo chiaramente è il merito suo perché non ha 11 titolari e questo non è semplice da riuscire a fare e gli giocatori che non giocano sempre il titolare continuano ad allenare bene quindi vuol dire che lui ha bene la squadra in mano e sì, per questo è il suo merito.